Mi sono sempre chiesto se il Needle, che è un'esca prettamente marina per la sua forma che assomiglia tantissimo a quella di una guia, possa funzionare anche in freshwater. Per questo oggi proverò ad utilizzarlo in lago, vediamo cosa succede. Procediamo con il primo lago. Forse è un'esca troppo poco simile alle cose che vivono in lago. Pesce! Missione compiuta! Cerchiamo di prendere il video. Slamato, questo era un bel pesce! Pesce! Ah, slamato ancora! Pesce! Finalmente! Bello! Ragazzi, i bus mangiano i Needle. Ciao, bello, grazie!